Buongiorno carissimi e benvenuti in un nuovo episodio del mio viaggio on the road in Vietnam. In questo video io e la mia fedele compagna di viaggio Concetta andremo alla scoperta di Hue, una delle città più belle e antiche di questo paese, che è stata anche capitale del Vietnam in passato e cercheremo di visitare alcune delle principali attrazioni presenti in città e nei suoi dintorni. Poi ci metteremo di nuovo in marcia e percorreremo una delle strade più famose di tutto quanto il Vietnam, ovvero l'Ivan Pass. Dovete troppo fare l'Ivan Pass. Siccome ci sono un sacco di cose che voglio farvi vedere e dire di non perdere ulteriore tempo, voi potete mettervi comodi, rilassatevi e godetevi questa nuova avventura vietnamita. Buona visione! E il primo posto che ho scelto di visitare qui ad Hue non poteva che essere la famosissima cittadella imperiale di questa città, sicuramente l'attrazione più famosa e più visitata di tutta quanta Hue. La cittadella fortificata di Hue è stata la dimora di generazioni di imperatori della dinastia Nguyen. La cittadella fortificata, diventata patrimonio dell'UNESCO nel 1992, era chiusa all'interno di un fossato ed un perimetro di alte mura. L'antica cittadella è davvero un posto gigantesco, potreste sicuramente passare qui mezza giornata. Ci sono infatti un sacco di templi e di palazzi da visitare oltre al parco che c'è tutto intorno che è veramente enorme. L'ingresso costa 200.000 dong per noi stranieri turisti. Mentre cercavo informazioni su Hue, ho scoperto che proprio qui in questa città, hanno inventato il salted coffee, ovvero il caffè col sale, no? Da quando sono arrivato in Vietnam non l'ho ancora mai provato, ho provato il caffè all'uovo che mi fa impazzire, ho provato il coconut coffee che è il mio preferito in assoluto, ma devo essere sincero, il caffè col sale come combinazione non è che mi facesse proprio impazzire al pensiero. Però leggendo che appunto è stato inventato proprio qui a Due, ho detto perché no, proviamolo, dai, magari poi appunto è buono. E sono venuto a berlo in quello che apparentemente è proprio la caffetteria e il bar dove è stato inventato. Si chiama Caffè Muoi. Sono appena arrivato, adesso lo ordiniamo e vi faccio sapere se mi piace. C'è una cremina sopra, tipo come se fosse una schiuma del nostro cappuccino. Oddio, è davvero buono. Si sente il sale, però non disturba. È sicuramente molto strano. In realtà non lo so se mi piace. Non lo so. C'è il sale, si sente parecchio il sale. Ma se siete in Vietnam è una cosa che, perché no, vi consiglio di provare una volta. Se poi non vi piace non lo prendete più. Sto ancora cercando di capire se mi piace oppure no. È strano. Sa tanto di sale. C'è tanto, cioè è proprio caffè al sale. Però ci stavo a provarlo, dai. è, ma dentro della città di Hue, sono state anche fatte costruire le tombe degli imperatori che regnarono in Vietnam appunto della dinastia Guyenne. Ce ne dovrebbero essere sette se non sbaglio, sono tutte sparpagliate un po' nei dintorni della città e a quanto sembra sono una più bella delle altre. Io ho scelto di venire a visitare il mausoleo di Kai Din che è stato uno degli ultimi imperatori della dinastia Guyenne appunto. Le tombe degli imperatori di Hue sono dei complessi grandiosi in cui, oltre al luogo di sepoltura vero e proprio, furono edificati palazzi, padiglioni e templi. Nella cultura vietnamita il culto degli antenati è una tradizione molto osservata e molto antica, tant'è che i sovrani in Guyenne fecero edificare le tombe secondo l'arte del Feng Shui, ben prima che la loro ora fosse arrivata. Altre due tombe molto note visitate sono quella dell'imperatore Min Mang e quella di Tu Duc. Tomba che è sicuramente molto suggestiva se non altro per la posizione in cui è stata costruita perché infatti è completamente immersa dalla natura e si trova sulla collina quindi da lassù poi la vista è spettacolare. Adesso la mia visita a Due però non è ancora finita perché infatti voglio farvi vedere ancora un posto che ho scoperto un po' a caso e dovrebbe essere un parco divertimenti abbandonato. Adesso andiamo lì e vediamo un po' di cosa si tratta. Mi trovo al Tui Tien Lake e proprio su questo lago hanno costruito un parco a temi divertimento che però è abbandonato. Non so il motivo, non so da quanto tempo è abbandonato, so solo che è diventata un'attrazione turistica. Wow che roba strana! E' un mega drago costruito su un lago. Oh wow! Wow wow wow! Ma che roba! Ma che roba! Quanto mi affascinano i luoghi abbandonati raga! Sono troppo belli, c'è un non so che di misterioso, di strano nel visitare i luoghi abbandonati. Si può salire! Andiamo su, andiamo a vedere un pochettino. Che figo sto posto comunque raga! Wow! Wow wow wow! Guardate! Siamo su quella che credo sia la testa del drago! E questa è la vista! Guardate che spettacolo! Sul laghetto! Molto carino! Ci sta! Direttando-le questo spettacolo! Au side... Wow 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 wow... Iscriviti al caldo? ok ragazzoni buongiorno io e Concetta ci stiamo lasciando alle spalle Ue devo ammettere che mi ha piacevolmente sorpreso non mi aspettavo di trovare una città così bella mi è piaciuta considerate che io ho malapena scalfito la superficie di tutte le cose che si possono vedere qui ad Ue ci sono davvero tanta attrazione merita sicuramente di essere inclusa nel vostro itinerario in Vietram questa città vi dico che mi è piaciuta anche più di Hanoi detto questo la salutiamo oggi direzione Danang let's go ciao piccoli ciao ciao ok amici io e Concetta abbiamo raggiunto quello che è l'inizio dell'Ivan Pass è considerata una delle strade più belle di tutto quanto il Vietram in pratica come potete vedere da queste riprese col drone dall'altra parte c'è questo mega ponte gigantesco che è la strada principale l'highway ovvero la QL1A che è super mega trafficata con un sacco di macchine e camion eccetera eccetera che io chiaramente non voglio fare voglio fare invece l'Ivan Pass che è questa strada costiera che attraversa le montagne e che arriva appunto a Danang Concetta è qui come potete vedere siamo super gasati non vediamo l'ora di intraprendere questa strada di cui abbiamo tanto sentito parlare ecco il cartello amici miei il cartello che dichiara che stiamo ufficialmente iniziando l'Ivan Pass let's go andiamo 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 questa strada è diventata super famosa dal 2008 quando hanno girato qui una scena di Top Gear Vietnam Special non so se l'avete mai visto e uno di questi protagonisti mentre facevano questa strada con lo scooter l'ha definita come la strada costiera più bella di tutto il mondo ah qua avete un sacco di baretti dove potete fermarvi a bere un caffè o fare pranzo credo di essere arrivato sulla cima del passo e già si scende si va verso Danang non mi fermo qua raga io andrò a far pranzo più giù let's go ok amici ci stiamo accidendo ad arrivare a Danang manca poco ormai abbiamo già superato il passo adesso stiamo iniziando dalla discesa dovete sapere infatti che l'Ivan Pass non è molto lungo è lungo circa 23 km quindi non vi aspettate per esempio la Jean Loup una strada super lunga da fare in più giorni è proprio una strada abbastanza corta molto bella sì molto paesaggistica però se non vi fermate mai più o meno ci dovreste mettere tra i 30 e 40 minuti ho cambiato idea va vediamo se c'hanno a cibo perché sto morendo di fame bella che bella sare di Stambo buona wow raga che vista guardate che vista che spettacolo ciao per pranzo noodles con carne di manzo una buonissima limonata con questa incredibile vista buon appetito è davvero bello fate l'Ivan Pass se avete la possibilità se noleggiate uno scooter fate l'Ivan Pass se state attraversando il Vietram con i mezzi locali quindi bus o treni e magari siete a Danang potreste pensare di noleggiare lo scooter lì farvi l'Ivan Pass arrivare fino alla fine del passo e poi tornare indietro nella stessa giornata è sicuramente un'escursione che da Danang vi consiglio di fare perché è molto vicino raga siamo arrivati a Danang tutta sulla costa molto molto grande chiaramente ve la farò vedere poi nel prossimo video perché anche qui di robe da fare da vedere ce ne sono parecchie però anche questa è andata che l'abbiamo fatta io e Concetta che brava questo scooterino che bravo mi sta accompagnando attraverso tutto il Vietram quanto sono orgoglioso di noi quanto sono orgoglioso di Concetta ce l'abbiamo fatta raga anche questa è andata che bello che bello viaggiare così che bello che bello hello hi I have a reservation oh yeah can you use a booking number ah 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 ecco la qua la mia stanza oh wow che meraviglia wow 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 due lette di lettura ah diamo il bagno ok cari amici viaggiatori siamo arrivati alla fine anche di questo video ce l'ho fatta sono infatti arrivato a Danang bellissimo live un pass bellissima anche UE spero che questo video vi sia piaciuto e spero di avervi fatto venire voglia sia di visitare UE anche solo per una giornata o comunque se avete tempo due giorni sono più che sufficienti secondo me per riuscire a vedere alcune delle principali attrazioni presenti a UE e poi soprattutto spero di avervi fatto venire voglia di noleggiare uno scooter e farvi live un pass perché è davvero una strada stupenda detto questo se siete arrivati alla fine di questo video vi ringrazio se vi fosse piaciuto vi chiedo di mettermi un bel like commentate qui sotto con qualsiasi cosa vi passa per la testa e noi ci vediamo nella prossima avventura vietnamita vi aspetto nel prossimo video infatti andremo alla scoperta di questa città di Danang cercherò di visitare alcune delle principali attrazioni presenti qui vi farò vedere l'hotel che ho prenotato dove passerò le notti a Danang perché è stupendo come potete già vedere dalla camera è meraviglioso e niente ci vediamo nel prossimo episodio grazie per aver guardato un bacione un abbraccio ciao paolo 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 in questo video io e la mia fedele compagna di viaggio concetta esploreremo la città di la cittadella imperiale di UE è stata la dimora di paolo paolo la cittadella imperiale di UE è stata la dimora di degli imperatori la cittadella fortificata di UE è stata la dimora di generazioni di imperatori paolo paolo però leggendo che appunto è stato inventato proprio qui ho pensato che perché no però appunto leggendo che è stato inventato proprio qui ad UE ho detto io sono venuto a vedere il mausoleo di Kai Din uno degli ultimi imperatori della dinastia Nguyen appunto vietramita e basta A presto